Nooo, non ci credo ragazzi, sto gioco mi vuole veramente viziare, mi ha fatto trovare lo SCAR Sparalo, guarda lo SCAR, lo sparare sto forconente in testa da qualche parte Tra l'altro ho una narice bloccata, quindi non riesco a respirare ragazzi, è assurdo Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, ecco su, esci veloce, 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 veloce E' ancora grande! Oh mio dio, aiuto, ho la safe alle calcagna, uno alle calcagna e mi devo mettere un'altra cosa in testa Abbiamo un Winnie the Pooh e un mattarello Guido si è incastrato da solo E ciao a tutti pagliacci e pagliacce, come amico Ozzo e bentornati a Bomba su questo nuovo video sul mio canale Allora, ci tengo a precisare una cosa prima che iniziamo il video perché la dobbiamo precisare su... Per forza Questo non è un video di Fortnite normali come tutti gli altri, dato che ragazzi questo è un format nuovo che voglio provare E se vi va una serie, diventemelo nei commenti con qualcos'altro Perché bene sì ragazzi, oggi faremo una partita, la vinceremo assolutamente Quindi faremo una vittoria reale e non sarà una partita normale come tutte le altre che magari vengono caricate su YouTube No, perché ragazzi ogni kill che io faccio, quindi non che io, ogni volta che muoio io, ma ogni persona che io uccido Mi attaccherò una cosa in testa Quindi se questo tipo di video ragazzi vi piace, è una cosa abbastanza figa Scrivitemi nei commenti qualche altra penitenza challenge che posso fare mentre ammazzo qualcuno e ovviamente E faccio una bella vittoria reale a bomba Quindi, siccome non posso giocare senza cuffie, giocherò con le cuffie in dotazione della PS4 E non le... oh cazzo E non le cuffioni, i cuffioni normali se non ci faccio a mettermi le cose Come vedete qui dietro di me ci sono le cose che mi attaccherò Che adesso che le vedrete vi farete una bella risata E' un video totalmente nuovo e soprattutto diverso e originale Mi raccomando lasciate un bel mi piace per il supporto Ed iscrivetevi al mio canale che trovate giù in descrizione Dove c'è anche il mio Instagram che se mi seguite vi saluto nei prossimi video Per cui vi aspetto Bene, direi bando alle ciance, colleghiamo le cuffie E iniziamo a bomba Questo flagello Ok ragazzi direi che ci siamo Come vedete siamo appunto nella pre lobby sto... Guardate quante cose che ho, sono tantissime Ok ci siamo, allora vediamo un po' Sì, vi ribadisco Il pullman va a dove voglio io appunto a corso commercio Quindi adesso ci buttiamo Raga preparati perché questo è una cosa diversa Che nessuno ha fatto finora Quindi ci tengo veramente se la supportate tanto, tanto, tanto Con dei beni piace E soprattutto ditemi cosa ne pensate Riuscimmi ad attaccare le cose in tempo Ancora poi qualcuno mi arriva Mentre mi attacco la cosa mi ammazzano Sono sclero, ve lo dico Ok, comunque la vittoria di Alec ragazzi Sempre, 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 sempre A sta alla vista, sempre Ok, guardate subito col pompo Attenzione, vai così vai Sempre a essere vuoto Un assalto Ma sto gioco mi vuole viziare Cassone C'è Vabbè poi me lo sparo E vabbè dai Double pump Da subito Ragazzi Mi sa che abbiamo già vinto Se tu mi dai double pump Soprattutto doppio blu Medici Vabbè mitraglietta Fammi spara allo scudo Prima cosa Intanto cambiamo qui Ah, broietti Fini su Ci sta Bella così Ragazzi Sento rumori Sento rumori Eccolo Eccolo E crepa Oh, ma quanto scudo c'ha Mori Oh, ma questo non vuol che fare E l'abbiamo crepato il primo ragazzi Benissimo Bene Non sento nessun altro E no, ma era da solo Allora mi fermo un attimo E possiamo mettere Mi metto già la prima cosa Io spero che regga Ancora a un certo punto Tipo Vi avviso ai più piccoli Non imitate Assolutissimamente Queste cose a casa Bene Direi che possiamo riprendere ragazzi Sono carinissimo Questa cosa Io spero che appunto Ecco Non iniziano a cadere Mi sparo medikit giusto per essere full No Non ci credo ragazzi Sto gioco mi vuole veramente viziare Mi ha fatto trovare lo scar Tra l'altro manco in una cassa Vedete voi Meno male che c'ho tutto sto materiale Guarda Ciao zi Come stai? Dove ho il pompo? E ancora E quanto scudo c'ha? Ma perché? Vi giuro Questo pompo Guarda Ora muoio regga Me lo sento Muoio perché Che campi Mi ha toscito Muori Guarda sto pezzo di me Vabbè Fu un caso là Che cosa è che non ci sta? Non giocate mai così ragazzi Non giocate mai Perché da veramente fastidio La cassa mi metto l'altra cosa in testa Un attimo Che non so spaccare Ma lo metto No perché più che altro c'era qualcuno che mi stava sparando Ecco infatti Hai visto ragazzi? L'avevo detto L'avevo detto L'avevo detto Ma perché? Ah non finito il materiale Grande Omega Finito il materiale No 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 Sta arrivando Boom Ciao bello E sono tre ragazzi Ora me ne metto due ovviamente Ok quindi Ci speriamo un attimo Il mini shield Ci mettiamo qui Bevo il mini shield E mi metto le cose Due kill Mi metto velocemente Prima che arriva qualcun altro Mi devo mettere Trunks Cioè Versoggio di Trunks Che usavo quando ero bambino C'era ancora un altro dietro Non c'era ancora la spada E mi fumetto di topolino Quindi Direi che possiamo iniziare Aspetto Cosa ce l'abbiamo E lo tagliamo E oddio Oddio santo Sono già bello Un po' appuccato Continuiamo Ecco infatti Ho sentito uno Eccolo Vai 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 Sparalo 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 Guarda lo scar Ma perché no Entrano i colpi Ah Ci ho fatta finalmente Ok ragazzi Io mi metterò un'altra cosa Lo so tranquilli Continuando Voi non ci crederete ragazzi Ma c'è un for Cioè mi devo sparare Sto forco niente In testa da qualche parte Quindi Siccome non ho idea Di come mettermelo Io spero non cada Perché veramente È qualcosa di difficilissimo Cerco di fare Il più facilmente possibile Ragazzi Attenzione Guardate Proprio lui Omega Professionista Deve scocciarsi Le cose in testa Trofil Che belluto Sì Cavallo Sì Però c'è già tutto Un cecchino Vabbè Lasciamo stare Oh Una mongolfiera ragazzi Sì Una mongolfiera Se non avete ancora Messo like ragazzi Sto in queste condizioni Siete seriamente pregati Di mettere like Oh biberon Jump Che altro Sto gioco mi vuole viziare Però ovviamente preferisco il biberone Quindi situazione Scar Due pompa Un lanciagranate Il biberone Materiali Decenti E un bel cammino Un bel fuoco Casomai sto nella merda Comunque la jump non serve Siamo in safe Quindi ora Vediamo di giocarci Nel massimo delle possibilità Sono ritornato a corso È vuoto ovviamente Non c'è nessuno Perché li ho fatti tutti Io sei Sei Grande così Forse ho sentito rumori Ho sentito rumori ragazzi Eccolo infatti Guardate che camperato Oh Mega attenzione L'ho impallinato E ora ce l'ho attaccare un'altra Oh Un'altra jump Ok fatemi lutta un attimo Prendiamo sto medikit A me la che capo No che me ne devo fa Fermo ecco Ricarica E andiamo Più che altro perché Ho paura a stare lì ragazzi Che ho appena ucciso un'altra Aspettate Fatemi andare al riparo Bene da un'altra parte Così Almeno sono sicuro Che non avviene nessuno Anche se qui il riparo Oddio non ne vedo tantissimi Ok Dato che non passa nessuno ragazzi La prossima cosa È una cosa che Chi non ce l'aveva nel 2000 Negli anni del 2000 Era Non era Non era nessuno Il grandissimo Gameboy Advance Ragazzi Ma chi se lo ricorda Con Pokémon Zaffiro dentro Un'entrattenzione eccezionale Oh mio dio Vorrei tanto metterlo qui Ma Sì dai La mettiamo qui Ci sta Complicendo Praticamente Quindi diamoci una mossa Che non ce la faccio A stare molto tempo così Perché la safe Si deve chiudere Al rifugio ritirato Dico io Perché la fate chiudere Sempre lì Ma arrivata che gioco Sempre là si chiude Tra l'altro Ho una narice bloccata Quindi non riesco a respirare Ragazzi Assurdo Sento sparare ragazzi Sento sparare Sono rimasti in sette È arrogante Vai Vai La costruzione Ha fatto quello che potevo Aspettate Ancora ragazzi Lancia grande Non si smolla Vai 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 Che sta là sopra Quello l'altro sta lì Oh uno è morto C'è un po' di tutto a terra Vai 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 con lo scar Vai Bello così E vabbè Lo sapevo Posta mi comincia a scendere Però lo pusho Cerco di pusciarlo Lo velocemente possibile Vai 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 Pampa pompa Pampa pompa Pampa Vai costruisci Veloce 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 Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro No 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 Tanto non mi prendi Non mi prendi Non mi prendi Non mi prendi Dov'è 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 Fatti vedere Fatti vedere Ce l'abbiamo ragazzi Me lo sento Sì Vai ancora Grande Uh vedo un RPG Vedo un RPG Aspettate ragazzi Aspettate Che ho tutte le armi scariche C'ho la safe che mi sta addosso Ecco l'altro C'è l'altro C'è l'altro No c'è l'RPG C'è l'RPG Adesso come devo fare Mi devo anche mettere L'altra cosa in testa Oh mio dio aiuto Ho la safe alle calcagne Uno alle calcagne Mi devo mettere Un'altra cosa in testa E se ammazzo questo Me ne devo mettere due No questo è bravo Questo è bravo a costruire Questo è bravo E infatti Questo è bravo a costruire No ok Perfetto È morto da solo Ah è caduto Il deficiente Uh Me ne devo mettere due Sì giusto ragazzi Due Aspettate Mi prendo Mi sparo questa Intanto Aspettate Mi sparo questa Mi sparo il biberone Mi devo attaccare Due cosi E c'ho anche l'RPG dorato Madonna sì Aspettate Fatemi aggiustare Siamo tre in partita Perfetto Mi sparo questo Un attimo di pazienza Abbiamo Un Winnie the Pooh E un mattarello Lo mettere solo in testa Così Oddio Come faccio Non manco così Aspettate Prendo già l'ultima L'ultima penitenza Che la metto qui Ok ragazzi Mi sono fatto un mega fortino E sento persone Che stanno arrivando Intanto Circolazione al sangue Non me la sento Praticamente più Ho la testa di piombo Ne manca uno Dove ne manca uno Ne manca uno Cioè Ne mancano due In realtà però È come Te ne mancassi Oddio Cos'è sto casino Ecco Forse è meglio Sparare Perché ho sentito qualcosa Lì Oddio Ecco infatti C'è un fortino C'è un fortino Vai così Raga vi giuro Che se non la vinco Sclero Vai vai Dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo La jump Ci siamo Ci siamo Ci siamo No sopra l'albero Che cacchio faccio Vabbè insomma Ho ne approfittato anche Per farmi un po' Tutto il ritocco Qua Intanto costuisci Costuisci Eccolo ragazzi Ce l'ho sotto 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 Codere RPG Codere RPG Giuro che Merda No ho perso Sotto lo scuolo Tutta la vita No ragazzi No 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 Giuro che adesso Puscio con tutto No si la la Perfetto Abbiamo vinto ragazzi Ho vinto Ho vinto Guarda che stupido Si è incastrato da solo Attenzione Siamo in road 8 kill 8 kill ragazzi 8 Beh ok Allora dovrei Mettere di regola Questo qui Da qualche parte Però Non c'è veramente Più spazio Non so dove Dove sono le foto Ce la sono qui Quindi ragazzi Assolutissimamente È stata una tortura epica Se il video vi è piaciuto O mi piace Comment o ditemi Che magari Quali penitenza Vorreste vedere Che è molto importante E ditemi soprattutto Se il video in generale Vi è piaciuto È anche come idea Quindi iscrivetevi al canale Importantissimo Per non perdere magari Eventuali prossimi episodi Dipenderà soltanto da voi E da quello che c'ete voi Nel penitenza Quindi Per questo video è tutto ragazzi Come è Gozzo Grazie a tutti per la visione Qui è Il Forcone La Faccia Trunks Gameboy Il Figgio Spignar Che chi Più ne ha piena meta Ragazzi Grazie a tutti per aver guardato Il video Ci sentiamo Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.